Si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, un grave incidente stradale lungo la statale adriatica, all'altezza di via Buccari, nel quale una donna ha perso la vita. La vittima, 56enne di origini moldave, si trovava in sella alla sua bicicletta, quando un mezzo condotto dai vigili del fuoco l'ha colpita facendola cadere a terra. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia intervenuta sul posto, entrambi i mezzi coinvolti nel tragico sinistro stavano percorrendo la strada statale nella stessa direzione di marcia. Una volta giunti all'incrocio con via Buccari, l'autocarro avrebbe inavvertitamente urtato la donna, la quale, dopo essere caduta e aver perso il controllo della bicicletta, è stata investita. Le condizioni della 56enne sono apparse da subito tragiche, tant'è che a nulla è valso il rapido intervento e il tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Ancora non definita nei dettagli la dinamica esatta del grave incidente. Sembrerebbe infatti che i vigili non stessero effettuando un servizio di emergenza, ma che fossero diretti in officina per un controllo di routine al mezzo. Via Buccari è stata prontamente chiusa al traffico e alla circolazione, per permettere agli agenti di effettuare tutte le rilevazioni del caso, utili a ricostruire i passaggi esatti che hanno portato all'esito fatale del sinistro. Sull'accaduto è poi intervenuto il comandante dei vigili del fuoco, Lorenzo Elia, che ha da subito espresso cordoglio e massima disponibilità per ogni esigenza ai familiari della vittima.